Bentornati a Panorami. Nel momento in cui stiamo registrando questo video, all'interno del Consiglio dei Ministri, nei gabinetti ministeriali, si sta discutendo ancora su quali misure restrittive adottare per il Natale degli italiani e fino all'epifania. Verosimilmente si tratterà di una grande unica zona rossa che andrà ad occupare l'intero Paese o, come si dice in gergo ministeriale, di una sorta di arancione rafforzato. Comunque sia, le misure restrittive, contrariamente a quello che si era sperato nelle settimane passate, sono rese necessarie dal dilagare del contagio. Questa seconda ondata continua purtroppo a marciare enormemente e la preoccupazione del CTS, dei virologi, dei tecnici sanitari e degli epidemiologi e che non sfoci direttamente in quella che viene chiamata la terza ondata. Mentre le misure restrittive continuano, continua anche la fibrillazione politica. Si tratta di una fibrillazione molto legata anche ad una dimensione di simulazione e di simulazione che è tipica della politica. Anche perché venti di crisi, per quanto possano soffiare portentosi e poderosi, sono fortemente ostacolati dal Presidente della Repubblica. Il Quirinale è il garante della stabilità, ancora una volta. E dunque, di fronte alla discussione politica, di fronte all'innalzamento dei toni, che viene condotto soprattutto da Italia Viva e da Matteo Renzi, alcuni risultati sono già arrivati. Nel senso che le mine vaganti, che rappresentavano alcuni dei problemi principali, sembrano, ancora una volta con la mediazione silenziosa, ma fortissima, e con la moral suasion del Quirinale, essere state disinnescate. Nel senso che la cabina di regia elefantiaca e barocca, che era stata annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sostanzialmente in una chiave che caratterizza la sua azione di governo, ovvero per accentrare le decisioni dietro alla moltiplicazione delle task force, verrà fortemente ridotta. E, analogamente, sembra che anche la discussione su quelli che saranno gli interventi e sulla ripartizione dei futuri fondi del Recovery Fund avverrà in una direzione di maggiore collegialità. E dunque, la crisi rimane in termini soprattutto di simulazione e in termini di agibilità politica, di cui Renzi e Italia Viva hanno un grande bisogno rispetto alla possibilità di prolungare il loro potere interdittivo parlamentare e la loro capacità di negoziazione. Mentre il PD ha cambiato la propria posizione nei confronti del governo, dopo aver sostanzialmente mandato avanti Renzi, oggi ritorna ad essere una falange e un pilastro alla luce di questi probabili, probabilissimi risultati della presenza di Conte. Vedremo cosa accadrà dopo l'epifania. Fino a quel momento possiamo dire che anche la crisi viene congelata, va in quarantena e va in lockdown. Mentre va segnalato, va segnalato con forza, come ancora una volta le parole di Mario Draghi, sui rischi per l'economia futura, su moltiplicarsi purtroppo di tante imprese zombie, come le ha chiamate, e sul fatto che non si può pensare ad un paese nel futuro schiacciato, seppure sollevato e alleviato dai sussidi e dall'assistenzialismo, queste parole vanno annotate con forza. C'è una grande riserva della Repubblica che risponde al nome per l'appunto di Mario Draghi, sarebbe ora che qualcuno si decidesse a convocarlo e a dargli il ruolo che gli spetta. E comunque, al di là della posizione precisa che potrà ricoprire, si tratta per l'appunto di una delle persone più autorevoli, degli italiani più autorevoli nel mondo e di qualcuno che, a differenza di molti altri, ha le idee assolutamente chiare su cosa bisogna fare per rilanciare l'economia e per difendere un paese la cui società, purtroppo, scivola sempre di più verso le nuove pubertà.